Controlli in particolare sui Green Pass dal nord al sud d'Italia, un monitoraggio attento per cercare di evitare che possa avanzare e diffondersi il contagio in un momento in cui la pandemia sta pericolosamente rialzando la testa. Le forze dell'ordine hanno così intensificato i controlli in tutte le regioni. Nella giornata del 7 novembre il monitoraggio per il contenimento della diffusione del virus covid-19 ha visto oltre 71 mila persone controllate dalle forze di polizia e 29 mila dei carabinieri, 16 le persone sanzionate o denunciate e un monitoraggio per prevenire il covid e gli atteggiamenti scorretti. Oltre 5 mila d'attività e gli esercizi controllati da tutte le forze di polizia ed oltre 3 mila solo dai carabinieri lungo tutto il territorio. Per quanto riguarda il monitoraggio sui Green Pass dall'inizio di agosto al 9 novembre 2021 l'arma dei carabinieri ha effettuato oltre 11 mila controlli, un migliaio alle segnalazioni, ma è stato verificato il mancato possesso del Green Pass per 261 persone e l'ho messo a controllo dello stesso Green Pass per 331 soggetti. Da questi dati è possibile estrapolare qualche indicatore ed analizzare cosa è accaduto in questo periodo negli esercizi pubblici. Tra omesso a controllo e mancato possesso del Green Pass il 62 per cento delle negligenze è stato riscontrato nei ristoranti, il 18 per cento nelle sale da gioco, il 13 per cento in palestre e piscine, una ventina complessivamente le strutture chiuse.